La metro comunque va, stamane l'abbiamo seguita lungo il circuito della città tra strettoie e auto in sosta selvaggia. Un viaggio di circa 45 minuti per coprire un tragitto di 11 chilometri. Ovviamente da considerare che essendo il bus in una fase di pre-esercizio e quindi senza passeggeri a bordo non ha dovuto restare la sua corsa alle fermate. Il percorso di andata e ritorno è stato affrontato da uno dei quattro mezzi dell'AIR senza particolari problemi. Alto il rischio di imbottigliamento però soprattutto nei giorni quando domina il caos traffico tra via Roma e Corsa Europa. Le criticità più evidenti registrate lungo le strade prive delle corsie preferenziali e le insidie come era facile prevedere arrivano dalla sosta selvaggia che in alcuni tratti rallenta e condiziona la marcia della metro. In particolare in via tedesco, in via circunvalazione dove ci sono file di auto parcheggiate a margine dei marciapiedi da segnalare. In alcuni casi anche l'imbucata di furbetti che provano a scavalcare le code infilandosi nella scia del bus. Tra cantieri e strade, non proprio da red carpet, la metro comunque va. Ovviamente si tratta ancora di test, la prova sul campo ci sarà dopo aver finito le cinque corse di pre-esercizio probabilmente tra una settimana o forse più quando i cittadini potranno salire sul bus. Intanto dopo 20 anni di attesa il viaggio della metro è stato accolto in città con curiosità ma anche polemiche. C'è chi teme di saggi e intoppi per strada ma fa discutere anche il taglio di alcuni stalli per il parcheggio in una città già vara di aree per la sosta. La metro comunque va ma la strada da fare sembra ancora lunga.